Tutto pronto per l'edizione 2023 del Carnevale di Cittadella, organizzato da Proloquo e Comune per un ritorno ai giorni di festa che si sono dovuti mettere da parte negli ultimi anni causa pandemia. La storica città murata si trasformerà in una girandola di colori, musica, maschere ed emozioni. Il nostro Carnevale riparte, riparte con la formula che avevamo sperimentato subito prima del Covid, che era quella di far venire i carri ma di farli passare fuori delle mura in modo da poter avere dei carri un po' più grandi perché comunque la nostra peculiarità, le nostre porte insomma permettevano di entrare a carri un po' di dimensioni un po' più piccole. Quindi come da tradizione il nostro giovedì del bambino dalle tre e mezza in piazza Piero Bona e poi il martedì grasso con la sfilata dei carri, dieci carri, sette gruppi mascherati ma poi naturalmente tante altre attrazioni. Il partenza dalle due e mezza e poi l'una parca, l'una parca che si trova nel piazzale del Milite Gnoto, quello che una volta era Villarino. Disposti divieti di sosta specifici. Il divieto di parcheggio sarà semplicemente all'interno delle mura e lungo la cinta muraria nei parcheggi fuori dalle mura. Per il resto insomma di parcheggi grandi ce ne sono tanti quindi sicuramente Cittadella è accessibile. Quindi vi aspettiamo tutti quanti a Cittadella il giovedì con i bambini e il martedì con i bambini e anche con i grandi.